Domande e risposte. Posso fare Krav Maga anche se alle spalle ho una lunga carriera in un'arte marziale o in un sistema di combattimento, qualcosa tipo 10 anni? No, devi morire. Ovviamente sto scherzando e la battuta era ironica. Si può fare, ovviamente si può fare, ma la cosa importante da tenere a mente è che per poter fare un cambio così radicale, per poter fare una svolta, è necessario lasciarsi alle spalle quello che si è già fatto. Ovviamente non voglio dire che devi dimenticare completamente quello che hai fatto, che quello che hai fatto non conta nulla, anzi tutto il contrario. Voglio dire però che quello che hai fatto non deve interferire con il tuo nuovo percorso. Si può riassumere in questa domanda. Come fai a riempire di vino un bicchiere che è pieno d'acqua? E ovviamente la risposta è, devi vuotare il bicchiere d'acqua prima di riempirlo di vino. E questo non vuol dire che poi in futuro non potrai mai più bere acqua e che dovrai bere solo vino? O il fatto che hai bevuto acqua prima ti guasterà il sapore del vino? Vuol dire semplicemente che se non lo fai, o bevi vino anacquato o continua a bere acqua. Vuol dire semplicemente che se non lo fai, o 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 non lo fai. Vuol dire semplicemente che se non lo fai, o non lo fai, o non lo fai, o non lo fai, o non lo fai. Grazie a tutti.